Attenti a quei due, i boni e eclide della moda internazionale. L'ex Galeotto Yeremime X e la figlia del patron di Topshop Chloe Green aspettano il loro primo figlio, come confermano numerose fonti a USV Ecli. La 27enne miliardaria aspetta così un bambino dal 31enne ex criminale più bello del mondo, oggi affermato modello. La loro relazione è salita alla ribalta delle cronache del gossip la scorsa estate a bordo di uno yacht in mezzo al mare di Bodrum, in Turchia. In quei giorni si consumò lo scandalo, perché Yeremime X era legalmente sposato con Merissa Meex. La notizia è stata ben accolta dalla famiglia di Chloe, ricordiamo figlia del proprietario di un vero e proprio impero nel mondo della moda, MR. Topshop, alias Sir Philip Green. Una famiglia straricca che ha dato la sua benedizione a questa unione che porterà il primo nipotino in famiglia. Come ha fatto suo padre per Kate Moss, donandola una seconda vita professionale dopo il periodo post-Doherty, Chloe Green ha fatto lo stesso con Yeremime X. È stata la prima a credere nel talento nascosto da modello dell'ex Galeotto, così come è stata tra le tante che non ha resistito al suo fascino. La crociera nel Bosforo realizzata a bordo di uno yacht da milioni di dollari la scorsa estate, ha fatto nascere una relazione che è cementata adesso nella dolce attesa. Grazie al supporto e al sostegno della famiglia Green, Yeremime X è diventato un astro nascente, una sorpresa nel mondo della moda, conquistando contratti milionari. È diventato, infatti, testimonia per Philip Plen oltre ad essere tra i personaggi più attesi delle varie fashion week nel mondo. È diventato una vera e propria celebrità, un nome al top con un cash che fa video alle stelle del settore che hanno più esperienza di lui. Chi se ne frega!